Portogallo rimane al terzo posto al comando della Spagna, la Repubblica cieca si piazza al secondo le prime otto, non dimentichiamo, parteciperanno al concorso di domenica di specialità Smooth Santana Pasticcia un attimo di nuovo uno di questi elementi a rischio con passaggio attraverso l'attrezzo è molto importante, è originale, è molto importante comunque dire che questi momenti dove l'attrezzo è statico devono limitarsi a un minimo, l'attrezzo e il corpo sempre in movimento, in sincronia Grazie per la visione Lancio di due clavette naturalmente comporta un rischio sempre grandissimo Penalizzato per un quanto Un decimo, due decimi Si perde Se cade una clavetta Una clavetta se la si prende proprio con un passettino Tre decimi Se due passi sono due, già mezzo punto Va detto che questa introduzione è voluta Proprio per poter avere un giudizio più sereno Dopo gli scandali che avremo modo di rievocare